Senti ma, questo vino qui è Pinot o Risni? Non lo so, è Risni o Pinot? Non lo so, arrivo da zia, secondo me è Pinot, è frizzante, perché l'altro è più fermo, buono, buono, ciao mamma, ciao, guarda, buonissimo, posso prendere un po' di questo, si deve mangiare, un cucchiaio, c'è quello, bello, buono, dopo faccio le tagliatelle col pesce, bello, bellissimo, bravo, sono le plantite e tu e Chef Cook, io Chef Cook, eh? Chef Cook, magari con questo mangio anche senza pane, io non c'ho messo niente, non so se vuoi l'olio, sale, non c'è nessun niente, buoni vero? Hai visto cucinare le fitte? Tagliatelle con pesce, ah, c'è il dito? Eh fammi, ah, mangiare il primo quello, eh? Sì, prima mangio questo, buono, eh? Sto primo piano, allora, ieri, mi si lunga, c'erano scontate anche gli aragostri della vista, primo piatto, però, a quali alla catalana? Non c'erano, mi piace, però ho ancora le verdure, qua in bella vista, è pieno di maionese e gelatina, e non lo ho preso, costano su 15 euro, metà, su 15 euro,shime non c'erano normale, quelle delle azioni, suggeriamo, non sono belle, autumn, Bene, quando viene qualcuno, quando viene qualcuno puoi usare. Eh, non mi ricordo mai. Lo sai che ci sono delle belle fosate? Sì. Papa. Io ho visto la donazione prima, poi c'era la messa. Allora, vi saluta Simone, vi saluta Simone. Pensa che non mi ha tribunato, perché ieri l'Emanuele è andata là e gli ha detto che io c'ho male. Guarda, vi faccio vedere. Guarda un momento qua. Qua, all'interno del pubblico. Ah, è vero? Come io? Succede anche lì. Eh, è sempre quello, eh? Quello brucia. Eh, ma no, 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 ma a me è venuto, adesso è piccolo, è diventato più, sto prendendo l'antibiotico. No, ma non è fatto l'altro, non è solo quello. Sì, è più grande, eh? Ma è meglio successo, comunque. Eh, però è venuto in coincidenza. Perché io l'ho detto a Marco, Marco mi ha detto, sarà un ascesso, qualche ascesso può venire da tutte le parti, non solo sui denti. Appunto, non è solo quello. Eh, ma è l'ascesso, è un ascesso, perché c'è il pus dentro. Io di solito può venire, ma no, così colpisce. Comunque adesso, ieri sera non mi avevo potuto dorire. Però mi sono alzata a prendere ugualmente la tachipirina. Non lo so, la gelatina, i gamberi, l'oliva, non so come si chiama, la conchiglia. 40-600 discontro. Ma sono andato tardi, era convinto che non mi anticipo, sono andato alle 6 e mezza, c'era cosa più niente. Se no, queste le prendevo anche per domani. Ce ne quattro, ne avanza una. C'è un dorsido, solo due pacchetti. E' uno che sobbino. E' uno che sobbino. E' uno che sobbino. C'erano solo due pacchetti, aprile di tutte e due. L'arrosso non l'ho portato, perché... Tanto se vanno, non ci saranno... C'è un numero di tapponi, vaccinazioni, fracciamento. C'è anche le fragole con la banana? Ma non so cosa metterci dentro insieme? C'è già bello arancio o limone. E' la fame chiara? La già tagliate? E allora c'è l'arancio. Un po' di arancio, un po' di limone. Ma il tuo limone ce l'ha? Sì. Abbiamo. Certo. Mamma, è per me. E' bravo il loro, eh? Fare questo. Ma non l'ho capito, ho provato a chiamare con Alexa, ma non mi ha risposto. Ma è che lavorare tutto il giorno o solo mattino? Mattina penso. Non lo so. Di solito nei festivi, lavorare al mattino. Si libera, adesso... E poi alle pescine però. Cioè oggi, sono dopo a 4.30. Non lo so. Si, di solito è così. Però non l'ho. Buonissimo. Buonissimo. Noi abbiamo bisogno di quanti... Non ci speravo, perché erano... Diverse volte, ormai, la tromia... Ma c'erano un bustino, non proverebbe a piente... E non facciano rispondi... E tu, io non lo so, non lo so... Tagliatele con fischi. E io ti speravo... Copse... E' questa c'era giga... E' un'lipo... E' un'lipo... Anche, appuntarele... E' un'lipo... E' un'lipo di... Grazie.